Moda, bellezza e divertimento fino a domenica la centralissima piazza Walter di Bolzano ospiterà il Mercedes-Benz Auto Industriale Fashion Weekend, un evento che porterà in passerella le nuove collezioni primavera-estate delle boutique bolzanine aderenti all'iniziativa. Ieri sera al Parco Tell Laurin è stato dato il via ufficiale alla Kermess che vedrà sfilare su una passerella lunga 50 metri tantissime modelle e modelli. Naturalmente è una cosa che a Bolzano non si è ancora vista, le ultime grandi sfilate le ha fatta l'agenzia della Ingrid Maier, però ormai sono passati quasi dieci anni ed era ora che qualcuno ci aiutasse a realizzare questa idea e devo ringraziare comunque il comune di Bolzano e l'azienda di soggiorno che ci hanno dato la possibilità di manifestare questo evento. All'evento parteciperanno anche giovani emergenti della moda e del design che si contenderanno il Louis Strength Award, diversi negozi che hanno creduto nell'iniziativa e che porteranno in passerella i vestiti e gli accessori che faranno tendenza in questa primavera-estate come la boutique Bloc 88 e Bloc 88 Men di Michela Faustin ed ancora a Moiré di Irene Mosquen per passare al fashion show di Trachten Hit, all'abbigliamento sportivo di Viste e ancora il fashion show di Piotto Porticus. Mi aspetto tanto tanto divertimento per tutti, diventerà uno spettacolo, uno spettacolo perché gli spettacoli in moda purtroppo in Alto Adige ce ne sono ancora pochi e diciamo il capoluogo merita di diventare anche un centro per la moda. La centralissima Piazza Walter di Bolzano insomma fino a domenica si trasformerà per lasciare spazio alla moda e al divertimento, un modo per conoscere ed apprezzare le ultime tendenze e trovare magari il nuovo look da sfoggiare.